Divertitevi con noi, giochiamo insieme a Colpo Grosso. Per venire a giocare è semplicissimo, formate una squadra di almeno 10 persone, telefonate al 62007, oppure passate da noi, video Vercelli, in via Foa 53 a Vercelli. Colpo Grosso, la nuova grande trasmissione a premi di video Vercelli, in onda e in diretta ogni giovedì alle 21.15. Divertitevi con noi, giochiamo insieme a Colpo Grosso, la nuova grande trasmissione a premi di video Vercelli, in onda ogni giovedì alle 21.15. Grazie per la visione!